Mauro Loffredo, allora l'ho scattata nel gennaio del 2014, la cosa che mi ha colpito è stata proprio il netto contrasto che si era venuto a creare nel vedere le persone ignare di questo musicista e lui ignaro delle persone perché ormai lui si era creato, si era calato nella sua dimensione a torso nudo a lasciarsi crociolare dal sole e a esternare il suo estro di musicista a me è piaciuto moltissimo, ecco perché poi l'ho chiamata così vicini così lontani, li divideva forse un paio di metri ma erano due dimensioni estremamente opposte, per poco non cadevo in acqua per espormi il più al lato possibile per prenderlo, per fare una composizione accettabile a me quella foto piace molto ma forse a livello personale non credo che possa avere molto a preteso